Ben trovati, con questo video presentiamo il corso urbanistica per geometri presente nel contenitore iTunes.io. Bene, per poter accedere a questo corso bisogna avere a disposizione un iPad e per avere l'invito per iscriversi al corso stesso dalla prima pagina del sito edidasco.org bisogna cliccare sul link iTunes.io e quindi successivamente urbanistica per geometri verremo riindirizzati all'applicazione iTunes.io presente nell'iPad, deve essere già installata e all'interno dell'applicazione che verrà lanciata in automatico c'è la possibilità di iscriversi di richiedere l'iscrizione. Adesso noi questo non lo facciamo in quanto siamo, il corso è già presente nel catalogo dell'iPad che stiamo utilizzando, quindi annulliamo questa sottoscrizione e ritorniamo alla libreria di iTunes.io. Per la precisione nella libreria sono presenti tutti i vari corsi a cui l'utente è iscritto. Tappiamo su urbanistica per geometri e entriamo nella interfaccia dell'iPad.io. Ogni corso è come se fosse organizzato tramite un quaderno ad anelli con quattro linguette principali che sono informazioni, quella dove siamo adesso, avvisi, note e materiali. Adesso vediamo rapidamente come funzionano queste quattro linguette e quali sono i contenuti presenti in questo corso. Dal tap informazioni è possibile avere una panoramica del corso, avere informazioni sull'autore e sulla struttura del corso stesso, che in questo caso è così organizzato in cinque capitoli, cinque grossi argomenti. iTunes.io permette di poter usufruire del corso in maniera autonoma senza nessun tipo di vincolo. Questo è estremamente comodo in quanto possiamo appunto in qualsiasi momento poter consultare il corso e fruire dei materiali presenti. Bene, dopo la prima linguetta informazioni avremo un'altra linguetta centrale che è la linguetta avvisi, dove di fatto vengono dal docente messi in serie di avvisi per il corso. In questo caso noi troveremo tutto già ben strutturato, tutto è diviso in alcuni capitoli, introduzione, cenni sulla storia dell'urbanistica, la normativa nazionale e la normativa della regione Umbria, la normativa edilizia al termine. Per ogni singolo argomento troveremo un avviso vero e proprio che ci introdurrà un pochino al corso e troveremo direttamente i materiali presenti. In particolare il corso è strutturato come dicevamo in una serie di argomenti che sono appunto 5 come dicevamo prima e per ogni argomento sono presenti dei materiali. Nel benvenuti presento un'introduzione all'urbanistica con un video dove viene praticamente definita l'urbanistica per quello che è e quindi è una sorta di introduzione generale all'argomento e così via avremo anche un podcast e altri materiali. Diciamo che in generale con iTunes U è possibile mettere un segno di spunta sui vari materiali che sono stati già utilizzati e troveremo anche un puntino tutte le volte che dovremo scaricare qualcosa. Il secondo argomento che vediamo è cenni di storia dell'urbanistica dal periodo greco al periodo barocco, c'è una presentazione e un video e poi dopo c'è un ulteriore video sull'urbanistica a Terni e per effetto della seconda rivoluzione industriale che è un caso un po' emblematico nel panorama nazionale. Successivamente si passeranno in rassegna alla normativa nazionale dove c'è un podcast in cui si parla in generale dello strumento del PRG e poi un altro video con una mappa adesso collegata in merito al leader di formazione dello strumento urbanistico in generale e poi un podcast in cui si parla della legge urbanistica nazionale. Poi si passa alla normativa della regione Umbria dove è possibile innanzitutto scaricare in formato pdf l'intero bollettino, l'intera legge regionale che è la numero 11 del 22 febbraio 2005. Poi c'è un video che è una lezione che presenta appunto questa legge urbanistica che è stata pure modificata recentemente. È possibile scaricare anche la presentazione fatta con chi note del video stesso. Poi per poter familiarizzare bene con lo strumento urbanistico c'è un link al piano regolatore generale del comune di Terni dove è possibile appunto vedere proprio come il piano PRG è realmente strutturato e organizzato. Un ultimo capitolo riguarda la normativa edilizia. Anche qui c'è un link al pdf in cui c'è la legge regionale, quindi l'intero pubblicato nel bollettino ufficiale regionale. Poi ci sarà un video di presentazione dell'attività edilizia secondo la legge regionale dell'Umbria con la relativa presentazione. Tutto il corso è strutturato per poter dare le nozioni generali dell'urbanistica nel caso specifico della regione Umbria, ma è chiaro che la metodologia e i passi necessari sono gli stessi anche se le normative possono cambiare leggermente da regione a regione. Per completare una panoramica su come è strutturato iTunes U mancano ulteriori due linguette, una linguetta in note dove è possibile nel corso della fruizione prendere delle note, quindi degli appunti a tutto quello che viene diciamo così fruito e utilizzato nel corso. L'ultima linguetta sui materiali in realtà è un riepilogo di tutti i materiali che sono gli stressi che abbiamo visto già strutturati a secondo gli avvisi nella linguetta numero 2. Bene, grazie per l'attenzione e buono studio e buon lavoro.